Un caro saluto a tutte e a tutti. L'Istat in questi giorni ci ha comunicato un dato molto preoccupante, quello relativo alla crescita. Nel terzo trimestre di quest'anno la crescita è uguale a zero. Quindi come dice l'Istat, come ci viene ricordato, siamo in piena stagnazione. Questo non capitava da tre anni a questa parte, avevamo avuto una crescita comunque, anche se nell'ultimo periodo, relativamente rallentata. La proiezione secondo gli statistici ci fa dire questo, che la crescita tendenziale nel prossimo periodo passa dall'1,2% che avevamo registrato nel secondo trimestre di quest'anno ad un più modesto 0,8%. Quindi la domanda che noi ci facciamo, se andiamo verso la stagnazione, se c'è un rallentamento così vistoso dell'economia, vedremo poi nei prossimi giorni i dati sulla produzione industriale, come potrà il governo mantenere la promessa scritta nel documento programmatico di bilancio mandato a Bruxelles, nel quale c'è scritta una cosa molto semplice, che la crescita è prevista all'1,5%. Questo obiettivo non ci sarà, ma se non c'è questo obiettivo vuol dire che ci saranno meno risorse a disposizione. E se ci saranno meno risorse a disposizione vuol dire che tutte le promesse che il governo sta facendo non potranno essere realizzate. Questo è il quesito che noi abbiamo. In sostanza ci pare che i due pilastri della manovra di bilancio, che speriamo di poter conoscere quanto prima nei dettagli, siano pilastri fragili. Sicuramente è fragile il pilastro della crescita ed è fragile anche il pilastro del 2,4% che ci dice il rapporto fra deficit e prodotto interno lordo è stabilito a quella cifra, ma se la crescita è a zero c'è il rischio che il 2,4% venga sfondato. Grazie